Buongiorno a tutti, benvenuti su investire.biz Ben ritrovati anche quest'oggi alla rubrica caffè e mercati Un saluto come sempre da Riccardo Zago Andiamo subito a vedere quelli che sono gli argomenti più importanti della giornata Ricordando però anche che abbiamo appena messo online la nuova Scalping Live Che a tutti voi piace e attenzione questa volta sarà gratuita ed aperta a tutti quanti Manca ancora un po' di tempo perché la prossima Scalping Live la terremo l'11 di ottobre Però inizio già a dirvelo, evento aperto a tutti quanti gratuitamente Detto ciò andiamo sul sito perché oggi comunque abbiamo diversi appuntamenti sul sito Infatti eccoci qui, se andiamo nella sezione appuntamenti Ricordo a tutti quanti che oggi mercoledì 28 settembre alle ore 16 Abbiamo il Trading Live dove anche qui faremo trading intraday in diretta sui mercati Poi andremo a impostare tutte le altre operazioni E cercheremo di fare più analisi possibili sugli strumenti più interessanti Poi abbiamo il Crypto Webinar del mercoledì Dove andiamo ad approfondire tutti gli argomenti legati al mondo delle criptovalute E come detto abbiamo messo online per l'11 di ottobre la Scalping Live Insieme a Giancarlo Prisco dove ci sarò come sempre anche io Ma attenzione, questa volta c'è qualcosa di diverso Infatti l'evento sarà completamente gratuito e aperto a tutti Detto ciò però andiamo sulla piattaforma del broker Kimura Trading Anche quest'oggi, come ogni giorno Per cercare di individuare le opportunità più interessanti Oggi voglio focalizzarmi sul bene rifugio per eccellenza Che ultimamente non è proprio un bene rifugio Anche perché l'unico bene rifugio, in questo caso valuta rifugio di questo periodo È il dollaro americano Non c'è scampo Però a livello prettamente tecnico e in un contesto di brevissimo periodo Noi di che cosa ci accorgiamo? Beh innanzitutto ci accorgiamo che abbiamo raggiunto il target in area 1620 Vi ricorderete tempo fa avevamo fatto un video dove dicevamo attenzione Perché la rottura di 1700 poteva portare a 1660 come primo obiettivo Eccolo qui 1640 come secondo obiettivo E come terzo obiettivo 1615 Ora, cosa sta succedendo? L'estensione massima di questo impulso e ritracciamento è stata raggiunta Quindi, attenzione Guardate anche le altre linee diciamo che sono molto lontane dal prezzo Questo che cosa vuol dire? Che quando siamo di fronte a un evento del genere I prezzi o vanno in lateralità oppure fanno un bel rimbalzo, un bel recupero Quindi noi che cosa dobbiamo cercare di fare? Di prendere questo eventuale rialzo che potrebbe verificarsi sul bene rifugio per eccellenza Per capire come fare però non possiamo limitarci a guardare questo time frame Che è il time frame giornaliero Ma dobbiamo scendere di time frame Quindi dal D1 andremo all'H1 Però voglio farvi notare la precisione La precisione del target indicator Che come sempre usiamo per individuare scenari rialzisti o ribassisti Quindi il livello chiave qui è 1615 Detto ciò andiamo sul time frame H1 E guardate che cosa è successo Proprio in concomitanza del livello 1615 Abbiamo assistito a una ripresa molto forte sul time frame H1 Infatti notiamo una candela con un corpo piccolo Un'ombra al ribasso molto importante Quindi sostanzialmente una doji Che potrebbe determinare la fine dei ribassi E questo è un primo segnale a mio avviso molto importante Quindi teniamo sotto osservazione Questo livello Per i trader più aggressivi si può valutare anche un long Da questo punto con stop loss Come potete vedere di 6-7 punti Quindi in area 1614 Possiamo scendere Scusate anche sul time frame a 15 minuti Per cercare di analizzare nel dettaglio La candela che abbiamo visto sull'H1 Ed eccola qui Forte ribasso Riprese importante con questo hammer Due di fila sostanzialmente Altra candela ad alta volatilità Ed ora siamo nella fase di ritracciamento Quindi quello che voglio dire è Che se i prezzi mantengono questa zona Secondo me qui siamo di fronte a un'ottima opportunità rialzista Guardate Altrimenti ok torneremo a scendere A me piace questa operazione Non so a voi È un po' rischiosa Però io la faccio Quindi cosa facciamo? Un long a mercato Eccoci qui Siamo long Posizione piccola per il momento Poi valuteremo ulteriori Valuteremo degli incrementi Cerchiamo di capire in conclusione qual è il target price Quindi saliamo sull'H1 per vedere un po' Quelli che sono i livelli più interessanti Secondo me ci potrebbe essere un rialzo abbastanza importante Andiamo a vedere come livello intermedio La soglia dei 1600 1628 Che segnaliamo qui E come target price finale Ci spostiamo anche sul giornaliero E dobbiamo andare a ricercare che cosa? Il massimo di ieri Che coincide con il minimo Scusate con Sì con Eccolo qua Il minimo del 23,9 E anche uno dei target price individuati Grazie al range indicator Quindi Anche qui Andiamo a impostare il secondo target price A 1640 Questo tipo di operatività È un'operatività Chiaramente rischiosa Di brevissimo periodo Che però Ha delle fondamenta tecniche A mio avviso Molto molto interessanti Approfondiremo questo argomento Oggi Alla Alla Trading live Nel frattempo io vi Ringrazio Rinnovo Chiaramente L'invito a oggi pomeriggio alle ore 16 Buona giornata E buon trading a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti